eccoci qua le incursioni di eusto news dove sono volete proprio saperlo sono nei sotterrani del comune di monopoli ma questi come vedete qui questo era il tribunale tribunale questo è l'archivio del tribunale che è rimasto qua perché caso strano questa roba non è andata via e si trova ancora qua giù sono dei libri anche molto belli qualcuno è antico molto datato anzi qualcuno di questi libri per esempio questi sono il 1868 potrebbero tranquillamente stare in un museo più che un archivio qui purtroppo sono abbandonati penso anzi sono sicuro ne parlerò con il consigliere delegato a queste situazioni che il comune non non gradisca avere questi spazi così belli però pieni di questa di queste carte che non sempre sono carte ufficiali che meritano di essere conservate che sarebbero forse più utili per ridurre l'ecotassa differenziando non credi